Ennesimo caso di violenza domestica, quello consumato tra le mura di un'abitazione a Cervaro. A finire in manette è stato un 42enne di origini rumene. Pare che l'uomo, durante la notte, aveva minacciato, molestato e tentato di aggredire la moglie in presenza di figli minori. I carabinieri della compagnia di Cassino, allertati dai vicini di casa, che hanno sentito ripetute urla nella notte, hanno salvato la donna e i figli. L'uomo era stato già denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, in relazione ad episodi accaduti negli anni passati, ma successivamente è ritirata. L'uomo ha cercato di minacciare anche i militari, estraendo un martello. Arrestato in seguito e trattenuto nelle cammere di sicurezza della compagnia in attesa di giudizio.